buongiorno adesso vediamo come impostare le varie valute su wirex in wirex abbiamo tre tipi di valuta la valuta in dollari la valuta in euro e in sterline a cosa può servire cambiare la valuta se per esempio dobbiamo fare un acquisto in dollari e vogliamo spedire dollari possiamo impostare direttamente la spedizione di questa valuta oppure se dobbiamo spedire soldini in euro chiaramente impostiamo l'euro se vogliamo essere precisi allora l'operazione è una cosa veramente facile facilissima andiamo in alto a destra sull'iconcino su quella rotella che vedete e trovate subito valuta riferimento basta premere in quella posizione vedete subito dollari sterline euro basta cambiare in euro per esempio fare fine torniamo indietro e vedete che anche l'importo del portafoglio è cambiato 4.100 metto sterline per esempio e da 4.100 diventato 3.659 metto dollari torno indietro e sono diventati 4.668 quindi un'operazione veramente molto molto facile che però può esservi utile per tante situazioni